Al via il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it si completa quindi un percorso che aveva visto nel gennaio del 2021 l'ingresso del comune nella grafe nazionale della popolazione residente la banca dati nazionali nella quale confluiscono progressivamente le anagrafe comunali i cittadini iscritti all'anagrafe possono scaricare 14 certificati per proprio conto per una componente della propria famiglia senza bisogno di recarsi allo sportello anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita di residenza, di residenza aere, di stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia aere stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafe di unione civile, di contatto, di convivenza per i certificati digitali non si deve pagare il bollo, essi quindi sono gratuiti, disponibili sulla modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo, possono essere rilasciati anche in forma contestuale, ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza e potranno essere richiesti in un unico certificato. Al portale si potrà accedere con la propria identità digitale il cosiddetto SPID, con la carta di identità elettronica CNS e se la richiesta è per un familiare viene mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui sarà possibile richiedere un certificato. Grazie ad ANPR i vantaggi per le amministrazioni italiane che hanno a disposizione un punto di riferimento unico dei dati e di informazioni anagrafiche dal quale poter reperire informazioni certe e sicure prerogare i servizi integrati e più efficienti per i cittadini, con un'anagrafe nazionale unica ogni aggiornamento su ANPR e immediatamente consultabili dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle Entrate, all'Inps, alla Motorizzazione Civile.